Pane casereccio fatto in casa, 500 g di farina, 370 ml di acqua, miele, lievito e sale. Mescoliamo tutto con un cucchiaio di legno, poi lasciamo lievitare per un'ora e mezza. Ecco qui la lievitazione è circa raddoppiato. Versiamo il composto in una teglia, facciamo 3 filoncini di pane e facciamo cuocere a 230 gradi per circa 30 minuti. Ecco il risultato. E' croccantissimo, è dentro, è morbidissimo e molto alveolato. In cucina con mamma vi auguro un buon appetito! E mi raccomando, restate sazi! Ciao amanti della cucina!